Rifornivano clienti anche in provincia di Lucca, i trafficanti arrestati nel maxi blitz avvenuto all'alba di martedì in varie regioni del centro nord Italia, eseguito dalla Guardia di Finanza di Torino. Due le organizzazioni criminali con base in Piemonte, dedita lo spaccio di droga composto da italiani albanesi, smantellate dalle fiamme gialle. 24 le persone arrestate, alcune anche in Toscana, si smerciava soprattutto cocaina e marijuana. In particolare il primo dei due gruppi, con base a Torino, godeva di una rete fittissima di collaboratori e clienti sparsi in mezza Italia, a capo un 58enne albanese da oltre 20 anni stabilito in provincia di Torino. E fra le province di maggiore sbocco del mercato c'era proprio Lucca, dove veniva destinata soprattutto cocaina ad una rete fittissima di clienti. Dalle indagini i finanzieri sono risaliti al secondo sodalizio criminale, attivo soprattutto in Piemonte e Lombardia, guidato da un 39enne albanese. Nel corso delle indagini sono stati intercettati e posti a sequestro in più occasioni non solo in Piemonte, ma anche in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto, complessivamente 45 chili di cocaina, 150 di marijuana, oltre a hashish e 900 mila euro in contanti. I quantitativi di sostanza sequestrati, se immessi sul mercato al dettaglio, avrebbero potuto il generale introiti per almeno 6 milioni di euro.